Con la Germania nessun problema, solo un dibattito sull'interpretazione del patto di stabilità. I ministri dell'economia e degli esteri, Padoan e Mogherini, gettano acqua sul fuoco dopo le aspre polemiche dei falchi tedeschi contro Renzi, favorevole ad una maggiore flessibilità in nome della crescita. Ieri l'attacco del numero uno della Bundesbank Weidmann. Cala il deficit nel primo trimestre dell'anno, lo segnala l'Istat, precisando che l'indebitamento netto sul PIL è stato del 6,6% contro il 7,3% dello stesso periodo 2013. Invenuto in una casa nel Frusinate, un deposito di preziosi forse riconducibile a Silvio Fanella. Si tratterebbe di diamanti, denaro e gioielli nella disponibilità del broker ucciso ieri mattina in casa a Roma. Condannato per lo scandalo Telecom Sparkle, Fanella era ritenuto il cassiere di Gennaro Mockbell, potente faccendiere legato alla destra romana. Ricercati due killer, un terzo è rimasto ferito. Sospesi dal Pentagono i voli degli F-35 e i superaerei da guerra americani, la decisione dopo un incidente ad un velivolo di base in Florida. Non si tratta del primo inconveniente per il controverso gioiello dell'industria bellica americana. L'Italia, che deve acquistarne fino a 90 esemplari, ha per ora sospeso il programma d'acquisto. Alta tensione a Gerusalemme dopo l'uccisione del sedicenne palestinese, forse una ritorsione per il sequestro e l'uccisione dei tre ragazzi ebrei. Oggi i funerali del giovane arabo. Negli scontri tra palestinesi e agenti israeliani, oltre 230 i feriti. Prosegue intanto il lancio di razzi su Israele e in risposta i raid su Gaza. L'uregano Arthur, dopo aver falciato il North Carolina, ora minaccia l'intera costa orientale degli Stati Uniti. Il ciclone ha guastato le vacanze di milioni di americani in viaggio per l'Independence Day, rassicuranti però le previsioni dei meteorologi, secondo cui Arthur sta perdendo di potenza. Il Mondiale si appresta a vivere la due giorni dei quarti di finale. Si parte alle 18 con la super sfida europea Germania-Francia. Alle 22 il Brasile, padrone di casa, affronta la Colombia. Domani Argentina-Belgio-Olanda-Costa Rica.